Salve amici di Basterpinio, ci troviamo alle spalle del castello Longobardo di Avella in compagnia del presidente della compagnia della rossa della spada che ci parlerà appunto dell'evento che si svolgerà il 13 giugno sabato qui al castello di Avella è ovviamente un palcoscenico meraviglioso perché il castello è veramente imponente uno dei principali castelli dell'Avelinese, non solo della campagna possiamo dire e noi della compagnia della rossa della spada avremo l'onore di allestire all'interno del castello un accampamento medievale militare dei secoli undicesimo e dodicesimo con tanto di tende allestite con tutti i paramenti propri poi metteremo in scena duelli all'arma bianca con armi che sono ricostruzioni e riproduzioni di quelle del tempo con tanto di armature, elmi, scudi e daremo anche l'assalto alle mura ovviamente è una simulazione, una dimostrazione per il pubblico ci sarà quindi il tiro degli arcieri, i combattimenti all'arma bianca con il muro di scudi e poi l'accampamento sarà visitabile quindi il pubblico potrà avvicinarsi a noi, provare i nostri equipaggiamenti indossare per esempio un elmo potremo dare delle spiegazioni sulle tecniche di combattimento che poi sono la nostra attività principale quindi la scherma storica, la scherma antica e ci sarà anche la possibilità di provare il tiro con l'arco perché ovviamente poi gli arcieri daranno la possibilità al pubblico di provare a fare qualche tiro ma non solo, ci saranno anche mestieri medievali quindi diciamo la corte interna sarà allestita un po' per richiamare, per rievocare la vita del tempo quindi ci sarà la musica antica, i mestieri medievali il vasaio, il ceramista, il pellaio, l'armaiolo e all'interno poi della corte ci saranno dei duelli cortesi sempre per dilettare il pubblico Vogliamo ricordare ai nostri lettori l'orario dell'evento? L'evento si svolgerà principalmente nel tardo pomeriggio e nella serata infatti tutto il castello sarà allestito e sarà illuminato sia con luci ovviamente artificiali moderne per esaltare la sua magnificenza ma anche con illuminazione storica, quindi diciamo a fuoco proprio per richiamare un pochettino quello che poteva essere il clima e l'atmosfera all'interno del castello Sono con l'ideatore appunto del progetto Una vita al castello l'avvocato Frici Siniscalchi ci vuole spiegare appunto come è nato questo progetto? Allora è un progetto che abbiamo ideato proprio noi di Bassi Erpini e ci è venuto in mente l'anno scorso sapevamo che si stavano ultimando i lavori qui al castello per essere aperto al pubblico insieme con la fondazione e con il comune di Avella abbiamo deciso quindi di proporre questo evento che io penso sarà un evento bellissimo e mai realizzato qui dalle nostre parti questa serata sarà anche data quindi l'inizio dell'illuminazione di questo bel castello Loncobardo quindi sarà una cosa bellissima che spero ma sono sicuro che tante persone verranno a visitare proprio il 13 giugno quindi vi aspettiamo il 13 giugno per questo evento imperdibile e vi aspettiamo in tanti